Il Consiglio regionale della Toscana ha respinto la mozione di sfiducia all'assessore al diritto alla salute e sanità Simone Bezzini presentata dalla Lega, prima firmataria, la capogruppo Elisa Montemagni. Ha votato contro la maggioranza, costituita da PD e Italia Viva. A favore invece tutte le forze di opposizione, Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Respinta anche la proposta di delibera che chiedeva l'istituzione di una commissione di inchiesta per verificare le misure messe in atto dalla Giunta e dal Sistema Sanitario Regionale, degli atti e dei criteri seguiti per contrastare la pandemia da Covid-19 e in particolare gli acquisti e forniture dei dispositivi di protezione individuale e l'organizzazione, gestione e verifica della campagna vaccinale. Primo firmatario Francesco Torselli di Fratelli d'Italia. Hanno votato a favore i gruppi proponenti Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Contrario invece il PD. A stensione per la Lega non ha partecipato al voto il gruppo d'Italia Viva. Consigliere, l'aula ha respinto la richiesta di istituzione di commissione di inchiesta sui vaccini e la sfiducia a Bezzini che lei ha definito fuori contesto. Sì, fuori contesto perché è un momento molto delicato da un punto di vista sanitario, quella diffusione ancora forte del virus. È una campagna vaccinale in corso, complessa, con tutte le variabili situazioni, soprattutto legate alla quantità e il tempo di arrivo dei vaccini, veramente molto complicato. In una fase di guerra, tra virgolette, mettersi a chiedere la destituzione dell'assessore, tra l'altro anche negli interventi di chi aveva chiesto di votare la sfiducia nei confronti di Bezzini, è stato riconfermato che non era un atto nei confronti dei Bezzini e basta. Mi pare assolutamente fuori contesto la massima fiducia nei confronti dell'assessore Bezzini che sta lavorando pancia a terra in una fase così complicata in Toscana, ma purtroppo come vediamo in tutto il mondo. Questo è il contesto nel quale dobbiamo collocare l'azione dell'assessorato alla sanità. Tenendo conto che il primo elemento di complessità è la scarsa quantità di vaccini che stanno arrivando nel nostro Paese e in generale in tutta Europa. Erano scarse le previsioni, le previsioni di questo trimestre sono state dimezzate, cioè nei primi tre mesi dell'anno sono arrivati metà dei vaccini che dovevano arrivare. Se non si considera il contesto mi pare complicato dare giudizi sull'operato dell'assessorato della Toscana ma anche delle altre regioni. Secondo lei quindi come procede la macchina delle vaccinazioni in Toscana e come sta lavorando l'assessorato alla sanità in tal senso? La macchina sta andando bene, c'è stato un oggettivo ritardo di circa due settimane sulla vaccinazione degli over 80, però è stato anche costruito accanto al canale degli hub che tutte le regioni hanno strutturato e quindi dei luoghi vicino agli ospedali o ai distretti o in altri palazzetti per fare le vaccinazioni di massa, è stato strutturato un accordo importante con la medicina generale nel mese di febbraio, prima la regione toscana con tutte le regioni italiane, che ha portato ora ad avere 2.500 medici di medicina generale che stanno vaccinando a pieno ritmo, ora gli over 80, ma è un canale che ci permetterà di continuare con forza le vaccinazioni e anche esaurite le vaccinazioni degli over 80, quindi la macchina è sostanzialmente pronta, l'ultimo dato è che noi siamo in grado di inoculare circa 30.000 vaccini il giorno, quindi un milione di vaccini il mese, se ci fossero vaccini nell'arco di poco più di tre mesi si potrebbe chiudere la campagna vaccinale. Il consiglio urgente è stato voluto fortemente proprio dal gruppo della Lega per trattare il tema dei vaccini, un tema che è salito purtroppo alle cronache nazionali, sappiamo come la gestione scellerata del PD di queste settimane ha portato la Toscana ad essere l'ultima per la vaccinazione degli over 80 e ad essere indietro fortemente nella vaccinazione delle persone estremamente vulnerabili. Ecco, noi ritenevamo che parlarne oggi, questo momento di confronto, fosse utile come spartiacque per creare una nuova gestione e per dare una spinta a quella che è la campagna vaccinale per ottenere dei risultati. Abbiamo chiesto le dimissioni dell'assessore Bezzini perché lo vediamo come l'attore principale insieme a Gianni di quelli che sono stati di servizi di queste settimane che tutti noi conosciamo, dalle vaccinazioni degli ultrafragili che fatte sul portale hanno creato tantissimi disagi ai cittadini fino ad arrivare alle vaccinazioni degli over 80 che sono ultime nelle classifiche nazionali. Ecco, la dimissione di Bezzini secondo noi era un atto dovuto. La commissione di inchiesta che secondo noi è l'unica commissione che oggi serve in regione toscana perché io voglio capire come mai la nostra regione è il fanalino di coda nelle vaccinazioni agli over 80, voglio capire come mai gli anziani e soprattutto i fragili e i fragilissimi della nostra regione tutti i giorni stanno ad agguardare il telefono in attesa che suoni per ricevere una chiamata a farsi vaccini e nel frattempo ascoltano tutte le sere sulle televisioni nazionali programmi che raccontano dei furbetti del vaccino, dei giornalisti famosi che si vaccinano, di Tizio che si è vaccinato, di Caio che si è vaccinato senza averne diritto. Io voglio sapere cos'è che non ha funzionato. La commissione di inchiesta in regione si attiva in due maniere, o col voto a maggioranza del Consiglio o con le firme di otto consiglieri regionali di minoranza. Noi abbiamo fatto una scelta, abbiamo presentato la richiesta di commissione di inchiesta chiedendo il voto dell'Aula, proprio perché non volevamo fare un processo all'assessore o al presidente Gianni, volevamo indagare tutti insieme su quello che non ha funzionato. Perché la sinistra deve capire che dire ogni tanto ci siamo sbagliati non è un delitto di lesa maestà. Si può sbagliare, nella vita si può sbagliare, soprattutto quando ci si confronta con una pandemia mondiale senza precedenti. L'hanno bocciata, non ci arrendiamo perché noi oggi abbiamo chiesto ufficialmente a tutti e 40 i consiglieri regionali di sottoscrivere la richiesta di istituzione di una commissione di indagine. Io mi auguro che le forze di opposizione che ieri hanno votato insieme al PD per fare la commissione a supporto di Bezzini non abbiano remore a votare anche con Fratelli d'Italia per fare la commissione di inchiesta. Sarebbe clamoroso se si sostenesse la commissione del PD e non quella di Fratelli d'Italia. Quindi chiunque voglia firmare, appena avremo raccolto otto firme, la attiveremo lo stesso. Allora il Movimento 5 Stelle ha votato sì alla mozione di spiducia presentata dalla Lega perché quello che è successo con la gestione dei vaccini e soprattutto delle liste, nonché del portale predisposto dalla regione toscana per la prenotazione, ha causato una disorganizzazione tale che ha portato sicuramente la Toscana a non essere, non dico ai primi posti, ma nemmeno a posizioni intermedie per quanto riguarda la vaccinazione degli over 80 e anche delle persone fragili. Per quanto riguarda la mozione di sfiducia presentata da Torselli vorrei sottolineare che anche il Movimento 5 Stelle ha posto la firma su quella mozione. La mozione è comunque stata bocciata perché la maggioranza del Consiglio ha reputato prematuro per il momento l'istituzione di questa commissione. Col senno di poi forse può essere anche una strada questa da intraprendere, prima fare una commissione di supporto dedicata alla gestione della campagna di vaccinazione e poi in un futuro, quando saremo fuori da questa pandemia, magari capire dove è stato sbagliato. Io non vorrei però che la commissione di affiancamento e di controllo dell'operato della Giunta fosse un modo per scaricarsi le responsabilità, perché questo rimane comunque in seno alla Giunta, all'assessore e al Presidente della Giunta Toscana. Noi speriamo in quella sede di avere una maggiore disponibilità riguardo alle nostre proposte, perché ne abbiamo fatte tantissime in questi mesi che sono state tutte regolarmente bocciate, tranne rarissimi casi, e anche soprattutto di avere un momento per poter interloquire, far presente a chi di dovere le criticità che via via cittadini ci segnalano. Io vorrei però dire una cosa, perché oggi stavo riflettendo molto su questa situazione e mi domando come mai non si riesca noi in Italia, uno dei paesi più industrializzati, con competenze scientifiche e tecnologiche di altissimo livello, non si riesca ancora a produrre noi all'interno del nostro paese il vaccino e dobbiamo patire dell'invio o meno delle dosi che vengono dalle case farmaceutiche. Noi siamo stati contattati, noi del Movimento 5 Stelle abbiamo presentato una mozione da un'azienda toscana di 2000 persone che è specializzata nella produzione di vaccini e queste persone hanno paura di essere messe in cassa integrazione perché hanno perso le commesse per la produzione dei vaccini contro la meningite. Ecco, noi abbiamo fatto presente tramite una mozione alla Giunta che esiste anche questa realtà in Toscana, cosa stiamo aspettando a coinvolgerla? Ma non dico solo a livello regionale, ma nazionale. C'è una frattura importante nella destra toscana, evidente ormai con la Lega che cerca di dare un contributo insieme al Partito Democratico, Italia Viva, Forza Italia, in alcuni casi anche 5 Stelle, rispetto un po' a una compagina di governo nazionale, Fratelli d'Italia che evidentemente mantiene la linea dell'opposizione, anche concorrenza devo dire, con 5 Stelle che poi magari cercano di dare una mano su una parte, poi votano una sfiducia, non è il tema la sfiducia o non fiducia, il tema è fare i vaccini, quindi io credo che non si sia fatto bene ieri e da parte mia ha anche un ruolo di autorevolezza e di esperienza che ha messo in evidenza come poi alla fine le sintesi si possono trovare nell'aula del Consiglio regionale. È stata invece approvata la proposta di delibera di istituire per la durata di tre mesi e rinnovabile una sola volta la Commissione speciale per il sostegno, monitoraggio e controllo della campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, presentata dalla capogruppo della Lega, Elisa Montemagni, col voto contrario di Fratelli d'Italia, approvati anche alcuni emendamenti proposti da Movimento 5 Stelle, Italia Viva e PD. Ne faranno parte 10 consiglieri, 6 di maggioranza, 4 di opposizione. La principale funzione è quella di attività di supporto e controllo circa le decisioni della Giunta in merito alla campagna vaccinale, per verificarne la coerenza tra le attività messe in atto, sia col rispetto del Piano Nazionale dei Vaccini, sia col rispetto alla risoluzione 15-2020, a suo tempo proposta dalla Commissione Sanità e votata dal Consiglio regionale. Io penso che sarà un'integrazione della Commissione da me presieduta, della Commissione Sanità, nel senso che è una Commissione che ha un focus specifico per tre mesi sui vaccini e accompagnerà le scelte dell'assessorato e del Presidente su questo tema, cosa stiamo già facendo come terza Commissione, tant'è che tra neanche un'ora avremo una seduta con l'assessore Bezzini sul tema delle vaccinazioni degli estremamente fragili. Insomma, già abbiamo programmato per tutto il mese audizioni settimanali dell'assessore per fare il punto sullo stato vaccinale. Quindi sarà una Commissione che ha una chiave propositiva, ecco, positiva rispetto all'azione del Consiglio e della Giunta. Noi vogliamo che questa Commissione si renda partecipe del processo della vaccinazione, perché vogliamo arrivare a compimento della campagna vaccinale mettendo in primis dei paletti chiari che sono quelli della vaccinazione dei nostri anziani e delle persone estremamente fragili. E poi anche andare a capire quello che non ha funzionato e cercare di migliorarlo perché vogliamo dare risposte a tutti quei cittadini che giornalmente ci chiamano e ci chiedono aiuto. L'ho fatto conto perché è una Commissione completamente inutile, una Commissione che non serve a niente, che nasce in una maniera assolutamente surreale, in un Consiglio regionale che è durato undici ore, dopo dieci ore, dieci ore su undici, gli attacchi alla Giunta, all'assessore Pezzini, al Presidente e alla maniera in cui la sinistra ha gestito la campagna vaccinale fino ad oggi, dopo dieci ore di attacchi culminati in una mozione di sfiducia all'assessore Pezzini, votato da tutta l'opposizione in maniera compatta, il centro-destra più il Movimento 5 Stelle, nell'ultima mezz'ora di Consiglio regionale e improvvisamente tutti sono diventati amici, sono messi d'accordo maggioranza e opposizione per votare tutti insieme una Commissione che ha il compito di fare da supporto all'assessore Pezzini nella campagna vaccinale senza poter indagare su quello che è successo fino ad oggi, senza poter indagare su quello che non ha funzionato in Toscana, ma anzi con il compito di andare a individuare chi diffonde fake news che potrebbero turbare i lavori della Giunta. Io me la sono sentita insieme al mio gruppo, dopo dieci ore di attacchi alla Giunta, di votare la Commissione a supporto della Giunta. C'è un altro tema, noi siamo stati la prima forza politica in Toscana a tendere una mano all'assessore Pezzini, a dire se vuole assessore, noi siamo pronti da domani, lavoriamo insieme per il piano vaccinale, per la seconda fase del piano vaccinale per trovare un modo di cambiare marcia alle vaccinazioni in Toscana, ma per mettersi a sedere e far iniziare una fase 2, prima volevamo fare chiarezza sulla fase 1 e questa Commissione, scritto nero su bianco, perché ovviamente la maggioranza per votarla ha preteso questo, che non avesse carattere di indagine, non avesse carattere ispettivo. Quindi fare una Commissione dove non c'è, dove non si può indagare su quello che non ha funzionato, ma che serve solo a dire bravi andate avanti così, già se lo dicono da soli, bravi andate avanti così, non credo che sia necessario che glielo dica anche l'opposizione. L'opposizione ha un ruolo di controllo e di verifica, di ispezione su come la maggioranza governa, non quello di fare i cheerleader. Speriamo che venga istituita il prima possibile e soprattutto che la Presidenza non venga data a qualcuno della maggioranza, perché perderebbe il senso fondamentale per cui è stata votata anche da noi tutti dell'opposizione, tranne Fratelli d'Italia, che era contrario. Io spero che ci sia un'apertura alla collaborazione e all'ascolto di chi attualmente ha la responsabilità in pectore della gestione della campagna vaccinale, perché oggi manca ancora un cronoprogramma, il sito ha dei grossi problemi, ci vengono segnalati degli errori nelle categorie dei fragili, i codici che vengono inviati vengono inviati sbagliati, poi per caso si scopre che si deve usare quello vecchio. Insomma, una grandissima confusione. Io capisco che sia difficile, l'ho sempre detto, è una situazione straordinaria, non si era mai creata una cosa del genere, però c'è stato anche tutto il tempo per potersi programmare. Ecco, questa cosa che è mancato il tempo, io non la condivido, perché il tempo c'è stato da più di un anno che siamo in pandemia, si sapeva che prima o poi sarebbe arrivato il vaccino, eppure non c'era nemmeno un piano per la vaccinazione in caso di pandemia in Toscana. Questo è quello che abbiamo scoperto parlando con i vertici dei medici ospedalieri e dei medici di famiglia. È una commissione dove maggioranza e opposizione potranno lavorare insieme. Ringrazio i colleghi per aver approvato i miei emendamenti, quelli un po' più sostanziosi, quelli che mettono in evidenza la necessità anche di possibilità di fare indagini, approfondimento, supporto e consiglio all'attività dell'assessorato e del Presidente Gianni, e soprattutto un'interfaccia importante fra il territorio, i cittadini, l'ansia e anche in alcuni casi la frustrazione di tutti coloro che vogliono essere vaccinati, con meccanismi che poi molte volte cambiano continuamente e quindi dobbiamo stare vicino alle persone, dare informazioni, ma anche dare i vaccini fondamentalmente, quindi un sistema che funziona se ovviamente è supportato anche dalle relazioni e da un'organizzazione che può migliorare. Proveremo a lavorare a questo punto tutti insieme, assumendo se ne tutte la responsabilità, è stato un modo non per togliersi la responsabilità, ma per andarsela a prendere, in modo tale che ciascuno si possa sentire con partecipe di questo che è l'operazione più complessa, mai eravamo stati abituati a una vaccinazione di massa, dove mi auguro entro giugno, luglio si possano vaccinare l'80% dei cittadini toscani, quindi bisogna lavorare tutti insieme e dare i propri contributi e migliorare. Con l'istituzione di una commissione speciale d'inchiesta, di fatto la sanità toscana è stata commissariata. Ieri il voto in consiglio regionale è stato palese ed unanime. Si è detto in Toscana le cose sulla vaccinazione non hanno funzionato. Guardate, pensate che soltanto 9,80 su 5 è stato vaccinato. Soltanto 2 toscani su 10 della popolazione complessiva hanno avuto la prima dose. E ci continuano a dire che è andato tutto bene? No, non è andato tutto bene. Ci sono ancora i superfragili che stanno aspettando, ci sono ancora tanti malati che non riescono a vaccinarsi, ci sono tanti over 80 che non riescono ancora a fare una prenotazione. E soltanto in 15 giorni il sistema della prenotazione è cambiato 3 volte. Oggi in Toscana arrivare ad avere un vaccino è più difficile che vincere al gratte vinci. Per questo abbiamo chiesto ed abbiamo tenuto che si facesse da un lato chiarezza su quello che è successo, sulle tante cose che in Toscana non sono andate bene, ma dall'altro come Forza Italia porteremo in quella condizione le nostre proposte. E siamo orgogliosi di dire che le proposte di Forza Italia sono state accettate anche in questi mesi ed hanno contribuito ad accelerare il percorso vaccinale ed anche a migliorare con il percorso vaccinale, perché come Forza Italia abbiamo chiesto la vaccinazione quando ci saranno le dosi, 24 ore su 24. Abbiamo chiesto che coloro che hanno avuto un tumore e sono ancora oggi in follow up, cioè nell'arco dei 5 anni, possano vaccinarsi. Fino ad oggi era possibile soltanto se avevi finito la comioterapia entro i 6 mesi. Abbiamo chiesto che gli over 80 potessero vaccinarsi anche a casa. Oggi quella possibilità è diventata realtà grazie all'impermio di Forza Italia. Abbiamo chiesto la possibilità di vaccinare i dipendenti nelle fabbriche. Oggi è possibile farlo grazie anche all'impegno di Forza Italia. Ecco, noi come forza responsabile abbiamo portato all'attenzione del Consiglio regionale tante proposte, molte sono state approvate, quelle che non sono state approvate noi ci batteremo fino alla fine. Penso alle liste dei riservisti. Siamo stati la prima forza politica a porre con forza un tema dicendo che non buttiamo via vaccini. Quei vaccini devono essere dati a chi ne hanno diritto ma bisogna avere la possibilità di chiamarli creando delle liste dei riservisti. Oggi è possibile inserirsi nelle liste dei riservisti, va fatto ma va fatto in maniera più veloce.